è Tomer Eshed. Complimenti. Grazie molto. Ti piace il premio? Molto, molto. Sono molto imprestato. Sì, molto. Sono rimasto molto colpito. Che cosa ricorda, che cosa evoca questo Ben Hurri miniatura a Tomer? Beh, questo è praticamente quello che ho in mente da Ben Hurri, questa immagine. Tomer ha frequentato l'Accademia per il film a televisione di Posdam, quindi questo vuol dire che la passione per il film, per il cinema, parte da lontano. Sì, beh, non ho mai pensato che avrei finito per studiare cinema in Germania, ma è andata così. E dunque, questo corto è un corto di animazione a ritmo serrato sicuramente. Com'è nata l'idea di questo cortometraggio? E adesso che cosa c'è nel futuro di Tomer? Quali sono i tuoi plani per il futuro? Sto lavorando ora per il mio prossimo film, che sarà il mio film di graduazione. Sto studiando. E sarà qualcosa come l'ultimo, ma magari un po' più grande nella scala della produzione. Questo vuol dire che lo candideremo alla prossima edizione del Salento Finibus Terre? Questo anno? Sì, spero, se il film sarà fatto nel prossimo anno. E così sarà occasione per ritornare in Puglia, ritornare in Italia. Forse è la prima volta, vero? Questo è la prima volta in Italia. Allora, lo aspettiamo per la seconda volta. Allora, lo aspettiamo per il prossimo anno, ok? Beh, spero. Auguri. Grazie. 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 Grazie.